L'imposta di sbarco va in pensione dopo due anni e mezzo. Da oggi, primo marzo, secondo quanto deciso da Capoliveri, comune capofila per la gestione associata della promozione turistica, a cui era destinato l'intero gettito dell'imposta, non sarà più riscosso l'euro e 50 centesimi a persona dalle compagnie di navigazione. Non mi sembra che le procedure di legge siano seguite. C'è stata tutta una serie di impegni, diktat, ultimatum, poi si sono arrivati tutti infondati. La decisione che è stata unilateralmente adottata dal sindaco Ruggero Barbetti è una decisione che non deriva da una procedura normativa. L'articolo 3 della Convenzione prevederebbe che la consulta dei sindaci deleghi il capofila ad adottare una scelta del genere. Lui, di iniziativa personale, in totale autonomia, ha attivato questa procedura. Ora vediamo poi materialmente cosa può succedere. Comunque il Comune di Portoferraio, aperto ad ogni forma di trattativa, conferma lo spirito della sua proposta. In primis, e su alcuni punti, saremo irremovibili, ma aperti per chiudere il tutto. Ora ci stiamo muovendo per verificare quali effetti avrà l'azione intrapresa dal mio collega Ruggero. Mi auguro che comunque non porti conseguenze negative, perché come ho già avuto modo di scriverli, ogni conseguenza che può comportare un danno materiale al Comune di Portoferraio, noi siamo intenzionati ad andare avanti e perseguire chi ha causato l'eventuale danno erariale. Per noi questo è un atto totalmente sbagliato e abbiamo già scritto sia alcuni capolibri che i colleghi sindaci dell'Isola d'Elba su quelle che sono non solo le nostre perplessità, ma le perplessità di molti operatori anche del settore. Come si pone il Comune di Campo nell'Elba? Come ha già detto nelle sue recenti comunicati stampa e nei documenti mandati agli altri comuni, cioè in maniera propositiva, cercando di superare quelle che sono attualmente delle barriere che paiono sì insormontabili, ma che in realtà possono essere tranquillamente superate. Venerdì prossimo i sindaci si dovrebbero incontrare per trovare un accordo definitivo. Noi i nostri passi li abbiamo fatti, se non c'è l'intesa faremo tutti quei passi e adotteremo tutti quegli atti che la legge vigente ci consente di adottare. Siamo certi di trovare una soluzione che potrà accontentare tutti i sindaci dell'Isola d'Elba, ma soprattutto potrà ridare una vera opportunità all'Isola d'Elba, che è quella di applicare il contributo di sbarco secondo i dettami del collegato ambientale. Io spero nel giro di questa settimana di poter, insieme agli altri sindaci, ritrovare la quadra e dare anche una prospettiva, una serenità a tutti, agli enti territoriali, alle compagnie di navigazione, agli operatori del turismo che ci guardano un po' attoniti. La quadra potrebbe essere comunque l'accordo sul contributo di sbarco? Certo che sì, potrebbe essere la quadra sul come applicarlo, sul come investirlo, ma soprattutto come dare la possibilità ai vari comuni dell'Isola d'Elba e all'Isola d'Elba intera di fare promozione, ma anche e soprattutto interventi sull'ambiente, sul ciclo dei rifiuti, su quello che è l'articolo 33 del collegato ambientale, cioè l'impiego del nuovo contributo di sbarco. Non sembra un clima molto favorevole? Stiamo lavorando per farlo diventare favorevole, stiamo superando l'allerta meteo, ecco, stiamo tornando in un porto sicuro e lavoriamo per farci entrare tutti dentro questo porto sicuro. Non è ancora certo fino a che punto tutti i comuni vorranno trovare riparo nel porto predisposto da Lombardi. Nonostante le rimostranze dei due colleghi Ferrari e Lombardi, infatti Barbetti va per la sua strada ed è convinto dei provvedimenti presi. I sindaci non si sono messi d'accordo, ci dice il primo cittadino capoliverese. C'è una fase di incertezza generale che si potrebbe protrarre ancora per molto. Se avessi continuato ad incassare l'imposta di sbarco, a chi avrei dato i soldi? Se tutti avessero approvato il regolamento avrei continuato ad incassare l'imposta di sbarco, ma così non era il caso. Prendo atto che nessuno vuole mettersi d'accordo. Aspettiamo e vediamo cosa succede.